La primissima è continuare la ripresa per renderla più solida, per consolidare i miglioramenti a livello di mercato del lavoro con una creazione di posti di lavoro. Abbiamo vari milioni di nuovi posti di lavoro negli ultimi anni e dovremo continuare dunque su questa rotta. In secondo luogo dovremo portare avanti anche il mercato unico e continuare il rafforzamento di questa base della nostra unione. In terzo luogo dovremmo salvaguardare la stabilità finanziaria. Un enorme progresso è stato fratto su questo fronte e quello che certamente non vorremmo vedere adesso è un venire meno, un sbrindellarsi di questa realtà perché non dobbiamo dimenticare le lezioni dell'ultima crisi finanziaria dove è stata questa interruzione, queste turbulenze dei regolamenti finanziari che erano stati creati, turbulenze che erano avvenute negli anni precedenti, negli primi anni del 2000, che hanno portato a questa crisi finanziaria. Sicuramente non vogliamo ripetere questa situazione, quindi crescita più forte, più solida, continuamento del mercato unico e salvaguardia della stabilità finanziaria. Il progresso che abbiamo realizzato finora va salvaguardato e continuiamo a migliorare il mercato del lavoro.